Sono arrivate in Toscana le prime 15.400 dosi del vaccino anti-covid di AstraZeneca. 3.400 dosi sono state consegnate all'ospedale di Grosseto per la ASL Sud-Est, 5.100 dosi all'ospedale di Livorno per la Nord-Ovest e 6.900 dosi all'ospedale di Prato per la ASL Centro. Queste prime dosi saranno somministrate dall'11 febbraio al 14 febbraio al personale scolastico e alle forze armate e di polizia, fino a un'età massima di 55 anni. Le prenotazioni sono aperte sul portale prenotavaccino.sanita.toscana.it fino all'esaurimento dei posti. Oggi sono arrivate in Toscana anche altre 31.590 dosi del vaccino Pfizer, destinate invece al personale sanitario, sociosanitario e delle RSA. Intanto il Ministero della Salute ha aggiornato il piano vaccinale nazionale anti-covid, indicando altre sei categorie che avranno la priorità nella seconda fase, persone estremamente vulnerabili, compresi i malati oncologici e gli obesi, a seguire persone tra 75 e 79 anni, poi tra 70 e 74, poi quelle con particolare rischio clinico dai 16 ai 69 anni, quelle tra 55 e 69 anni senza condizioni che aumentino il rischio clinico e infine quelle tra 18 e 54 anni senza aumento del rischio clinico. All'ultima categoria è destinato il vaccino di AstraZeneca, alle altre quelli di Pfizer o Moderna.